Era lo scorso 19 novembre quando Guido Rivelli riceve una telefonata dall'asilo di sua figlia. Un'insegnante era risultata positiva al covid-19. La classe doveva quindi restare in quarantena fiduciaria. Il giorno successivo il suo telefono squilla ancora. Anche nella scuola dell'altra figlia di otto anni una maestra è risultata positiva. È così che Guido e sua moglie, due infermieri fanesi con le bambine in isolamento fiduciario per le successive due settimane, decidono saggiamente di rimanere in casa. Arriva poi la prima telefonata di Asur che si accerta delle condizioni della bambina più piccola, mentre per l'altra figlia nessuna chiamata. Io ho potuto prendere un congedo straordinario, quello previsto dalla legge, il 50% dello stipendio e me ne sto a casa. A questo punto, avendo tre figlie, non due, decidiamo di tenere a casa anche la terza, che potrebbe essere libera di poter andare a scuola. Io ho chiamato voi per sollecitare un attimo, per prendere visione dell'incongruenza che per me è palese. Noi siamo tutti in casa, potenzialmente positivi, con una bimba che invece potrebbe tranquillamente andare all'asilo. La terza figlia di Guido potrebbe quindi continuare a frequentare normalmente l'asilo, rischiando di contagiare in quanto potenziale positiva i compagni di classe e le maestre. Un'incongruenza, dice Guido, che favorisce il diffondersi del virus e per questo motivo hanno deciso di tenere la bambina a casa assieme alle altre due figlie. L'intera famiglia, madre, padre e le tre bambine resta in isolamento. L'incongruenza per me è nata dal momento in cui oggi mi contatta anche Aset, che mi dà dei consigli sul modo di conferire i rifiuti. L'incongruenza più grande è proprio quella di preoccuparsi dei rifiuti urbani. Quando io, mia moglie e la figlia, che possiamo uscire, andiamo al lavoro o usciamo per fare la spesa, ci soffiamo il naso e buttiamo il nostro fazzoletto di carta sporco di moci in un qualsiasi bidone dell'immondizia, così, pum, a parte quello. Però io dico, teniamo a casa anche la terza figlia, proprio per questo motivo, perché non siamo due scemi. Lavoriamo nel mondo, nel settore della sanità e diciamo, a questo punto teniamo a casa anche la terza figlia, perché è inutile mandarla a scuola pensando di poter essere in qualche modo contaminati noi e mandarla lei là dove non ne sono previste le mascherine e nient'altro, perché comunque hanno meno di sei anni.